Mario Cusitore rischia di lasciare il programma, L.D.A. Platano ancora una volta in difficoltà Manca sempre meno alla scelta di Ida Platano. Nonostante il percorso della tronista sia quasi terminato la donna pare essere ancora molto in difficoltà Il problema principale riguarda effettivamente Mario che si è reso protagonista dell'ennesimo teatrino in studio Nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, c'è stato un acceso botta e risposta tra Cusitore e la tronista del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi I problemi però per quest'ultimo non sono affatto finiti qua, anzi Il giovane corteggiatore, come fa sapere Lorenzo Pugnaloni, domenica è stato avvistato a divertirsi con delle donne in un locale Ma andiamo a vedere cosa è successo.altra segnalazione su Mario Cusitore, questa volta è finita davvero con Ida Mi avete girato dei video che circolano su X di Mario in un locale all'aperto a ballare. Fin qui nulla di strano se non chi lo ha visto ha segnalato anche il fatto di aver notato degli atteggiamenti un po' particolari di Mario verso qualche ragazza Inoltre, è stato sottolineato che Ida Platano è normal che ad oggi Noon può fidarsi di Cusitore date le continue segnalazioni Pugnaloni ha comunque preso assolutamente le distanze, dicendo che da parte sua guardando la clip Noon ha visto nulla di strano In attesa di capire cosa succederà nella prossima puntata e scoprire se in effetti tale segnalazione verrà riportata in studio, possiamo dire che il percorso tra lo speaker e Ida Noon è affatto semplice L'ex dama continua nonostante tutto a corteggiarlo e a cercare di capire realmente se Mario è interessato Nello stesso tempo, per la parrucchiera C'è Pierpaolo che fino ad oggi Noon ha mai perso occasione per dimostrarle tutto il suo interesse Però per tanti è evidente che Ida voglia Mario Anche Tina ne è convinta e proprio nell'ultima registrazione lo ha ammesso chiaramente Verso Pierpaolo nota un grande trasporto ma per l'opinionista il ragazzo non sarà la sua scelta La Cipollari crede che manchi quel qualcosa in più per far scattare il sì, cosa che invece nota con Cusitore Nelle prossime puntate probabilmente Ida cercherà di chiudere il cerchio e capire se sarà meglio seguire il cuore, Mario, o la ragione, Pierpaolo Staremo a vedere